Conclusa la campagna elettorale dopo che lo spoglio ha dato un risultato inequivocabile per Nino Todaro sul sindaco sciente Filippo Taranto, è il momento della prima seduta del Consiglio Comunale a Montalbani Licona. Sono i giorni di passaggio che precedono l'inizio vero e proprio del nuovo mandato e già da oggi nei giorni a venire sono state organizzate nel centro del paese, nelle frazioni, giornate per rendere il territorio più pulito. Finalmente un po' anche di serenità e di tranquillità dopo una campagna elettorale che è stata davvero faticosa oltre che entusiasmante. Ci siamo messi subito all'opera anche perché i problemi sono tanti ma lo facciamo con grande determinazione ma anche con grande entusiasmo perché sono davvero contento in questi due o tre giorni ho riscontrato grande entusiasmo e anche grande partecipazione soprattutto da parte dei giovani che mi stanno dando veramente un aiuto incredibile proprio sin dall'inizio. Sia la sua compagine elettorale che ora diciamo l'insediamento vero e proprio vede soprattutto i giovani. Quella era la mia idea iniziale, quella sarà il mio punto di riferimento e già abbiamo fatto, immaginate, un primo incontro con loro perché andiamo a programmare tutta una serie di idee che certamente avranno come punto di riferimento loro. Credo che, e l'ho sempre detto, qualsiasi idea amministrativa non possa prescindere dal coinvolgimento di tutti quelli che sono i giovani della nostra comunità che devo dire con assoluta sincerità mi hanno dato sin dall'inizio una grande, anzi grandissima disponibilità. Ho detto ai ragazzi accetto la vostra disponibilità, accetto il vostro entusiasmo, accetto il vostro impegno purché non sia un impegno limitato a queste giornate ma sia un impegno che io voglio avere nell'arco dei cinque anni per tutta una serie di idee, di programmi che abbiamo in cantiere.